Siete pronti al bordello più totale della mia canzone preferita? Io sono DLJ ed oggi siamo su il terzo episodio di sfide inventate, stavolta non da me ma dai me fa... Dunque ragazzi vorrei dire una cosa prima di passare al video, un paio di news, allora la prima è che il video provano a ridere challenge, questa qui ha raggiunto 101 visualizzazioni ragazzi, grazie, vi voglio bene, non mi aspettavo di arrivare a questo traguardo, ha anche 14 like, Quindi grazie a questi due traguardi, non quello dei like ma quello degli iscritti perché siamo arrivati a 20 iscritti, farò due speciali che ovviamente non vi dirò perché sono a sorpresa. La seconda news ragazzi è che voglio salutare le persone che appunto me l'hanno chiesto, allora sono Vincenzo De Rosa, Emanuele 5 e Mattia Sannino. Come dicevo prima, le sfide sono state inventate da voi e non da me, però nella playlist ci finisce nei cazzi anche questa puntata, quindi andiamo a vedere che cazzo mi avete scritto. La prima domanda è da Megarobby che mi dice riduciti nella tua forma più vergognosa possibile. No, ma quanto siamo belli. Cioè raga io sono bello così, ti stai atteggiando, hai qualcosa da dire, no perché io lo faccio, io lo faccio ok? Lo fa, ho questo e so come usarlo, lo fa. La seconda domanda arriva da Aldo che mi fa, metti la tua canzone preferita e ballala a caso. La farò con questo nuovo look, questo è il mio look, fa un culo alle mutande. Da oggi mi vesto così, vado in strada nudo col coronavirus. Ragazzi sono andato a vedere sul Cosa di mia sorella per mettere la musica. Ma che cazzo si vede? Ma che cazzo... Ragazzi siete pronti al bordello più totale della mia canzone preferita? Tenetevi pronti. 1, 2, 1, 2, 2, let's go! Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è mamma mia! Fai una sigla dei tuoi peluche preferiti. Pensate che sia Super Mario perché ho fatto un altro canale, ma non lo è, non lo è asfatto. Caprottino piccolino, Orsolino, Orsettino e Leopardino Cavolino formano la banda degli animalottini! Fai fare una canna Miraculous. Ragazzi lo facciamo, però teniamola lontana da qualsiasi cosa altrimenti si scopa il genio. Ehm... vai sarà... sarà un'esperienza bella. Ah zia ti senti viva? Guarda lì raga, guarda come gode, guarda come gode! Guarda la sua bella esperienza, guarda lì! Ehm... penso che sia un po' fatta. Queste erano le sfide inventate dai miei fan, sono più belle di quelle che ho inventato io, visto che la mia fantasia funziona da cani, però sono state, a dire la verità, sono state veramente bellissime. Ehm... spero che ci rivedremo, spero che me ne consiglieranno ancora altre, perché sono veramente belle. Ehm... ringrazio ancora per il traguardo di 101 visualizzazioni e 20 iscritti al mio canale. Ehm... ora per sdebitarmi farò due speciali e ora farò i trucchetti di GTA 5. Ma che cazzo... Non so se li avete visti, questi sono tutti trucchetti, vabbè stoppate il video e ve li vedete. Eccoli. Questi sono per PS3 e PS4, ci sono anche dietro, eccoli. Ah... Ah...